Una serata all'insegna del territorio e della cultura, quella organizzata a Lapio, dove si è deciso di istituire un assessorato con delega Alfiano. Una decisione originale che si inserisce all'interno di un percorso di valorizzazione e di rilancio anche turistico del territorio. Il primo a ricoprire questa carica è proprio il sindaco di Lapio, Natalino Fabrizio. È risaputo che non è un assessorato, diciamo, tra virgolette con portafogli, però è sicuramente un assessorato di impegno per il territorio, di impegno e di promozione. Io insieme ai miei collaboratori lo definiamo l'oro giallo che nasce in superficie, a differenza dell'oro che viene estratto dalle minieri. Quindi dovevamo obbligatoriamente impegnarci per ottimizzare questo prodotto che effettivamente il Signore ha voluto donare ai colli di Lapio. Intendo riunire al più presto tutte, di nuovo tutte le cantine magari in maniera un po' più informale per sentire le esigenze, i suggerimenti e quant'altro possa migliorare la commercializzazione di questo nostro prodotto.